Carissimi, bentornati per chi sta seguendo questo ciclo di catechesi, una nuova puntata di questo ciclo di catechesi dedicato ai libri sapienziali, ai splendidi libri sapienziali che con oggi entra in uno step successivo perché dopo una rassegna dei primi due cioè il libro di Giobbe e il libro dei Sanni, mi sembra che abbiamo già visto nelle prime puntate quindi dopo l'introduzione, oggi entriamo in quella che è la prima trilogia, l'ho già accennato Proverbi, Coelet e Cantico dei Canati, ovviamente oggi ci metteremo al primo dei tre perché è una trilogia? Perché, in esempio, le Padre della Chiesa, appunto questi tre libri sapienziali venivano applicati alle varie fasi, diciamo così, del progresso e degli stadi, diciamo così, di vita spirituale Proverbi per i principianti, il Coelet per i proficienti, il Cantico dei Cantici per i perfetti quindi chi muove i primi passi, quindi sapete che i principianti vengono attirati, allettati in qualche modo dalle dolcezze divine e poi il secondo step è il percorso della purificazione che fanno i proficienti, quindi quando si deve cominciare a vivere un certo distacco è uno spirito di mortificazione, vedremo il Coelet con quello che qualcuno ha chiamato pessimismo, ha in realtà lo scopo di provocare una relativizzazione, ecco, di quella che è la dimensione mondano-terrena della vita, che fa parte della nostra vita cristiana e non possiamo assolutizzare evidentemente il bene di questo mondo e relativizzare o addirittura dimenticare quelli eterni, no? Quindi quella tra questa funzione e il Cantico, questo libro stupendo che è proprio appunto un cantico di amore intenso tra uno sposo e una sposa, è in realtà ciò a cui tende la pienezza della vita cristiana e quindi che è la dimensione sponsale del rapporto con Dio, perché con Dio ci possiamo portare soltanto, ci possiamo rapportare regnamente soltanto attraverso le frequenze dell'amore, un amore però che prima di giungere allo stadio maturo appunto ha bisogno di un percorso di conversione e poi delle fasi più o meno lunghe e intense di purificazione. Tutto questo è dovuto semplicemente alla nostra condizione misera e decaduta perché per quanto riguarda l'altissimo, l'altissimo ha solo una frequenza di comunicazione che è quella della sua divina essenza, che è appunto l'amore. Purtroppo siamo noi, ci siamo da un bel pezzo e profondamente desintonizzati, quindi disconnessi a causa del maledetto peccato e quindi occorre tutto quanto un lungo e laborioso processo di risintonizzazione prima di poter affacciarsi a questa dimensione, ripeto, fondamentale del rapporto con Dio. Ora passiamo brevemente, vedete che il sottotitolo di last line del libro dei proverbi è appunto la via dei principianti, coloro che cominciano il cammino e che sono attirati appunto dalla bellezza di queste pagine verso il desiderio di intraprendere il cammino di santificazione. Il libro dei proverbi, come diversi libri sapiensali, è abbastanza comprensibile, quindi sapete che questi incontri che noi facciamo non hanno uno scopo né esegetico in senso stretto né scientifico in senso stretto e non hanno nemmeno una caratteristica dell'esaustività perché leggere tutto il libro dei proverbi, il sottotitolo capitoli, capite, ci porterebbe anche se facessimo queste lezioni, chiamiamole così, a livello settimanale, secondo me si fa un esegesi dettagliata, forse ci riesce un capitolo a lezione, vuol dire 31 lezioni, quindi soltanto per il libro dei proverbi. Sono, diciamo così, delle presentazioni che poi sfociano, diciamo così, in un invito alla lettura, quindi una volta che uno ha gli orizzonti, la struttura, i contenuti e magari anche il commento di qualche passo saliente, se crede, può avventurarsi in una lettura spirituale, perché la lettura spirituale sulla sagra scrittura ha l'indulgenza, non mi ricordo se plenaria o parziale, anche per una sola mezz'ora di lettura proseguì, contenuta dalla saga scrittura. Se non ricordo male, addirittura l'indulgenza è plenaria, per quanto sia importante questo aspetto, questa dimensione della vita di fede. Allora, ciò detto, andiamo a vedere a livello introduttorio qualche informazione sul libro dei Proverbi. Anzitutto, tradizionalmente, è stato attribuito a Salomone, anche se, come si vedrà dalla struttura, specialmente in tempi moderni, si fa riferimento alla possibilità di autori differenti o addirittura plurimi o cose di questo genere. Non mi addentro troppo in queste questioni. abbiamo detto che durante questi incontri abbracciamo la posizione tradizionale, proverbi di Salomone, la diamo per buona, ecco, lasciamo ai dotti e ai sapienti il compito di rimere queste questioni. Allora, sì, una struttura, la struttura del libro dei proverbi, attenzione, perché speristici che è attribuito a Salomone? Perché proprio... il versetto numero uno comincia con proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. proverbi, uno uno, quindi, ce lo dice lui stesso, e quindi, che abbiamo subito, no, che dicendo ce lo lui stesso, andare poi a... comunque. Abbiamo poi subito una serie di raccomandazioni della Sapienza, con la S maiuscola, una prima sessione che sotto la Bibbia di Gerusalemme viene appunto classificata come proverbi di Salomone, la terza sezione più breve, un paio di capitoli circa, raccolta dei sangi, poi un'altra sezione di cinque capitoli dedicata a una nuova raccolta di proverbi di Salomone, e poi i detti di Agur, solo 14 versetti, alcuni proverbi numerici, anche qui 19 versetti, parole di Lemuel, 9 versetti, e infine l'elogio della donna Faggia, con cui termina il libro dei proverbi. Ora, di un libro di questo genere, la cosa importante, diciamo così, da fare per aiutare un po' le persone a rizzontarsi un po', è cogliere alcune tematiche principali, ecco, che attraversano questo peculiare libro sapienziale. Anzitutto è come ottenere la sapienza e evitare la follia, cosa molto importante perché oggi di follie se ne vedono diffuse insomma non poche, no? Chiaramente per follia non è che si intende necessariamente un pazzo psicopatico che è da ricovero psichiatrico, no? Le follie sono tutte quante le forme di abdicazione del cervello, ecco, quindi di quando si sragiona. lo sragionare è certamente cosa che non viene mai da Dio, ma è importante imparare ad evitare di farlo. poi, l'importanza dell'onestà, l'onestà significa la rettitudine morale, e i castighi dei disonesti, lo sapete che è una cosa a cui uno spesso pensa, che è anche un tema esplicitamente affrontato nel libro dei salvi che abbiamo visto nella puntata precedente, dice, ma com'è che sembra che quelli che fanno i bravi, diciamo così, non è che se la passano troppo bene, invece i cattivi mangiano, bevono, dormono, se la godono e sembra che è tutto tranquillo. Non è così in realtà. E c'è un'ampia tematica di proverbi dedicata all'approfondimento di questo punto. Poi l'amore con le sue forme e la condanna dell'odio con la sua nevandezza. Poi i vantaggi dell'amitezza e i gravi danni del vizio opposto che l'ira. Poi un'ampia sessione dedicata alla vanità delle ricchezze. Ricchezze è un tema che ovviamente attraversa tutta la Sacra Scrittura inevitabilmente deve essere affrontato, perché le ricchezze allettano tutti. È inutile dire che uno ne è immune. Non lo siamo. Ecco, vanità significa, sentiremo poi il Coelet, che è una parola che ama molto, vanità delle vanità e inseguire il vento. È qualche cosa di appunto, da vanità deriva anche evanescente, quindi che si risolve facilmente. Le ricchezze sono proprio la rappresentazione perfetta di chi ha l'orizzonte completamente puntato sulla terra, perché le ricchezze sono lo strumento per procacciarsi la cosiddetta felicità terrena, che non esiste, però a qualcuno sembra di sì e quindi accumulare ricchezze vuol dire avere la possibilità, la potenzialità di prenderti tutta l'altra soddisfazione possibile e immaginabile e quindi di essere felice in questo mondo. Poi il valore della laboriosità è la condanna dell'ozio. Vedete che l'ozio, dicevano Geromani, è padre dei vizi. Anche quando qualcuno, anche quando una persona, per esempio, non avesse un lavoro professionale, non è importante avere un lavoro professionale. Certo, è importante perché bisogna lavorare per vivere, no? Ma ci possono essere delle situazioni in cui per varie motivazioni contingenti non si abbia al momento un lavoro professionale. Ecco, però vale il monito dei libri sapienziali, ripreso per esempio anche in varie forme approfondite nel laureo libretto dell'evitazione di Cristo, non stare mai in ozio senza fare niente. Lavori manuali, lavori intellettuali, preghiera, cioè il perdere tempo, come dire, lo stare senza fare niente non è mai, è peccato da confessare, non è mai atteggiamento da secondare o da seguire, mai. Poi, le regole nei rapporti, o figli, genitori, re e sudditi, uomo, donna, amici e nemici, padroni, operai, ci sono delle cose molto interessanti, dette anche per esempio per quanto concerne l'educazione da dare figli. E infine una serie abbastanza grande di esaltazioni, al timore di Dio, tema tipico dei libri sapienziali, all'amore del prossimo, alla ricerca della verità, è una cosa importantissima sotto tutti i punti di vista, al silenzio, alla pratica delle virtù cardinali, la prudenza e soprattutto la temperanza. Ecco, questo è un pochino delle tematiche, sapete, i libri sapienziali non sono specialmente questi, proverbi, il siracide, soprattutto i proverbi anche i libri di Giobbe, c'è un senso compiuto dall'inizio alla fine, no? Però questi libri non hanno una struttura, una strutturazione, si parte dall'inizio alla fine, si tratta di questi temi, no? Ci sono una montagna di considerazioni, peraltro adesso vedremo come ha fatto questo libro, no? Senza che si possa seguire un filologico preciso, per cui bisogna poi andare a fare una operazione di ricostruzione a posteriori, no? Allora, andiamo a vedere alcuni brani scelti. Per quanto riguarda la prima parte, anzitutto le raccomandazioni della sapienza, che è un capitolo molto molto bello. Io canto un attimo qui, switcho, per chi sta vedendo la diretta, switcho la finestra che ci porta, ecco, alla Sacra Scrittura, e così possiamo leggere insieme e seguire insieme, no? Allora, sezione dedicata appunto alla Sacra Scrittura, al capitolo secondo del libro di proverbi. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva giusti la sua protezione e scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Allora comprenderai l'equità e la giustizia e la rettitudine con tutte le tue vie, con tutte le vie del bene. Perché la sapienza entrerà nel tuo cuore, la scienza delizierà il tuo animo. La riflessione ti custodirai, l'intelligenza vegliera su di te per salvarti dalla via del male, dall'uomo che parla di propositi perversi, da coloro che abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie delle tenebre che godono nel fare il male. Gioiscono dei loro propositi perversi, i cui sentieri sono tortuosi e le guistrate sono oblique. Per salvarti dalla donna straniera, dalla forestiera che parla seducenti, che abbandona il compagno della sua giovinezza e dimentica l'alleanza con il suo Dio. La sua casa conduce verso la morte e verso il regno delle ombre i suoi sentieri. Quanti vanno da lei non fanno ritorno, non raggiungono i sentieri della vita. Per questo tu camminerai sulla strada dei buoni e ti atterrai a sentieri dei giusti, perché gli uomini retti abiteranno nel paese e gli integriti resteranno, ma i malvagi saranno sterminati dalla terra e gli infederi ne saranno strappati. Penso che, avendo avuto un po' una rassegna delle tematiche principali, le abbiamo già intraviste almeno due o tre quattro presenti in queste esortazioni. No? Allora, un piccolissimo commento, no? Qui è la sapienza che parla. Vedete che si comincia con una serie di se, 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 se. Cosa? Allora, innanzitutto se tu accoglierai le mie parole, perché nessuno può ricevere la sapienza se non c'ha voglia di riceverla. La prima condizione che è necessaria per incontrare Dio, diciamo così, è desiderarla, è avere il cuore aperto, altrimenti se ne fa assolutamente nulla. Quindi, se tu accoglierai tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza. Allora, la sapienza, per chi non lo sapesse, la sapienza è la capacità di pensare come pensa Dio, di vedere le cose come le vede Dio, di giudicare le cose come le giudica Dio, mentre la prudenza è la aurica di tutte quante le virtù e consiste nella retta ragione delle cose da farsi. Importantissima virtù per potersi guidare in questo mondo. Ah, se appunto invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza. Continua, no? Se la ricercherai come la gente, per essa scaverai come per i tesori. Quindi, bisogna averci la voglia, bisogna tendere l'orecchio, poi bisogna pregare. Invocherai l'intelligenza e chiamerai la saggezza, no? E se la ricercherai come l'argento. Come l'argento vuol dire che diventa per te una cosa importante, diventa per te una cosa preziosa. Una cosa importante e preziosa quando noi per essa siamo capaci di dedicarci tempo, energie, interesse, fatica, anteponendone anche altre cose, eccetera, no? Dopo tutti quanti questi se... Allora comprenderai, ecco qua, comprenderai il timore del Signore. E troverai la scienza di Dio. Comprenderai, tabin, yirat, ecco qui il timore, c'era la radice del verbo... Iare, che appunto significa remere, questo è il sostantivo. Il timore del Signore è la conoscenza di Dio. Vedahat Elohim. Quindi attraverso questi se... Si riesce a conoscere... O meglio, a capire il timore del Signore. Il timore del Signore nella Sacra Scrittura è quella riverenza dovuta a Dio, è quella che lo mette automaticamente al primo posto. E che, diciamo così, orienta la vita in un orizzonte che... La prima cosa che a me interessa è non offendere il Signore, non uscire dalla sua volontà. Essere capace di vivere sotto i suoi occhi, nella consapevolezza che a Lui devo rispondere a quello che faccio. il timore del Signore. Il Signore la dà alla sapienza, e dalla sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva, attenzione ai giusti, la sua protezione. Chi è protetto dall'Altissimo? Chi fa la sua volontà... Perché chi esce dalla volontà di Dio, e quindi entra in grazia di Satana, non è protetto divinamente, ma è appunto in balia dei suoi crudeli e cattivi nemici. E allora comprenderai anche l'equità e la giustizia, l'altra virtù cardinale, e la rettitudine con tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. Anche la scienza. La scienza è la conoscenza reale ed oggettiva delle cose così come sono. Oggi le grandi conoscenze scientifiche indagano appunto la struttura dello scibile umano così come si è stata consegnata. La fisica studia fenomeni fisici, quindi cercando di arrivare all'oggettività di essi, quindi di descrivere come si accadono. Ecco. Poi c'è un'altra cosa molto importante. La riflessione ti custodirà e l'intelligenza veglierà su di te. Per salvarti dalla via del male. Allora, per salvarci dalla via del male, che cosa è necessario? è far funzionare bene l'intelligenza e essere spiriti riflessivi. Riflessivi significa saper considerare, ponderare le cose e in particolare imparare a farlo in un contesto di dialogo intimo con Dio. La maestra di queste cose era la mia. Maria serbava queste cose meditandole nel suo cuovo. Quindi, dietro l'uomo che parla di propositi perpersi, dietro quelli che abbandonano i retti sentieri, per camminare nelle vieti del tempo, che godono nel fare il male, eccetera, qui ci sono adombrati, chiaramente anche, si possono vedere non soltanto gli esseri umani che fanno queste cose, ma proprio i demoni, i diavoli, sono coloro che erano nel mondo per perdere le anime, che cercano di portarci all'inferno e che sono tremendi nella loro astuzia e nella loro malizia. E quindi bisogna imparare l'arte di smascherarli e fuggirli. E a questo serve appunto la sapienza. E infine il tema che chi fa tutte queste cose camminerà sulla strada dei buoni, si atterrà sentieri dei giusti, perché gli uomini retti abiteranno il paese e gli inti che vi resteranno a me malvagli saranno sterminati dalla terra. Quindi, il capitolo seguente è bene, mi interessa come faccio ad acquistare questa sapienza? Allora, figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti perché lunghi giorni e anni di vita e pace ti porteranno. Anzitutto, bontà e fedeltà non ti abbandono. Bontà e fedeltà. In ebraico c'è chesed, chesed non soltanto bontà ma è proprio misericordia e emet misericordia e verità, no? vedete, misericordia e verità. Non è bontà e fedeltà. Adesso, voglio un attimo vedere chissà se la scena 2008 ha tradotto un po' meglio. No. A quanto pare no. Però chesed e emet sono proprio due termini tipici che appunto significa chesed è è l'amore ma è l'amore nella veste della misericordia e emette proprio la la verità. Quindi, attenzione, misericordia e verità che devono stare sempre insieme perché la misericordia senza la verità è falsa e la verità senza misericordia può uccidere perché può essere troppo cruda, può essere troppo violenta. Ora però, attenzione, sempre una cosa, questo lo ribadisco, l'ho già detto tante volte, ma è il concetto che deve essere sempre molto chiaro. mentre la verità può sussistere senza misericordia, certo, non è bello perché quando appunto viene sbattuta in faccia senza misericordia può rischiare di fare molto male, non dico più male che bene, ma molto male sì. Invece, la misericordia non può e non deve mai esistere senza la verità, la misericordia non può e non deve mai essere fuori della verità perché la falsa misericordia è micidiale, cioè io non posso per esempio dire siccome una persona mi fa pena che ne so un ragazzotto che non riesce a trattenere i bollenti spiriti dice vabbè se fai ogni tanto qualche qualche atto non proprio consono ti preoccupare che non c'è nessun problema. Questa non è misericordia. questa qui questa è menzogna non è bontà ma è consegnare le anime nelle mani del diavolo no? Comunque prima indicazione misericordia e verità vedete che la vulcata come traduce bene misericordia et veritas qui si sono dimenticati un po' troppo facilmente il grande San Girolamo che insomma ci masticava un po' sia di ebraico sia di greco sia di latino e non solo e anche tutta la serie di altre lingue strane orientali che ci arrivano davanti a sé una sinossi più prima insomma prima che traduceva qualcosa queste due cose legati intorno al tuo cuore scrivi sulla tavola del tuo cuore e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio degli uomini poi altro aspetto fondamentale questo è un capitolo meraviglioso confida nel Signore con tutto il cuore e non appoggiarti sulla tua intelligenza allora noi l'intelligenza certamente dobbiamo farla funzionare ma ma non deve essere quell'intelligenza come dire autoreferenziale e che si attiva su coordinate completamente terra-terra e orizzontali deve essere sempre un'intelligenza illuminata dalla fede perché c'è un'intelligenza la strategia Maria Grignon da Morfort spiega molto bene nelle sue opere l'intelligenza è tradotto con il termine ebraico è bin binach no che letteralmente significa comprensione quindi sta attento a verificare che la tua comprensione delle cose sia corretta che non sia una comprensione umana che tu non sia mossa da prudenza umana da prudenza carnale da prudenza mondana le varie categorie di prudenza che che numera San Luigi Maria Grignon nella lettera degli amici della croce no? noi ci muoviamo sempre dentro orizzonti divini in tutti i tuoi passi pensa a lui ed egli appianerà i tuoi sentieri vedete come è facilmente comprensibile qui si possono spendere delle parole di commento semplicemente a scopo esortativo ma il testo è chiarissimo non credere di essere sangio temi il Signore sta lontano dal male ecco sembra sentire se qualcuno di voi si crede sapiente si faccia stolto quindi noi siamo sempre in cammino il Signore ci ricolmerà della sua saggezza e della sua sapienza nella misura in cui facciamo nostro vedete qui c'è un po' una come dire una benedizione in un altro termine fatta al pensiero di Socrate sapete che il motto di Socrate te la so di non sapere perché se tu sai di non sapere cammini sempre in costante ricerca e per sott'anni il sapere arriverà temi il Signore sta lontano dal male sempre perché la prima forma di sapienza somma sapienza è stare lontano dal male in particolare il male morale che è il peccato oh poi onore al Signore con i tuoi veri e con le primizie di tutti quanti i tuoi raccolti i tuoi granai si riempiranno di grano i tuoi tini traboccheranno di mosto allora qui c'è un sacco di gente da sempre che ha paura di rimanere senza soldi ma il modo per non rimanere mai senza soldi è questo adesso noi non abbiamo più l'obbligo di dare le primizie come nell'Antico Testamento al Signore ma ricordiamo che il Signore va onorato con i nostri averi con i nostri soldi e si onora al Signore sapete che significa questo qui no? sì boveri sì certamente anche i boveri no no si onora al Signore io per esempio sono parroco come si onora al Signore per esempio con i soldi per me è uno dei miei doveri facendo in modo che la sua casa che è la Chiesa sia il top ma il top anzitutto per lui da queste quante volte qualcuno mi dice specialmente da queste parti no? e tu fai tante belle cose per la Chiesa ma le persone di qui non si meritano niente dicono loro non lo dico io guarda che se anche fosse vero io quello che faccio non lo faccio perché sia apprezzato dalle persone perché mi dicano io lo faccio per il Signore lo faccio per lui quindi mettendoci del nostro che si possano fare delle cose belle per il Signore proprio per lui poi un'altra cosa molto importante figlio mio non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere a noi la sua esortazione perché il Signore corregge chi ama corregge chi ama come un padre il figlio prediletto lettera agli ebrei no? per la vostra correzione che voi soffrite cioè Dio che è nostro padre a volte ci manda tripolazione prove cruci perché? perché deve togliere dalla nostra anima abitudini cattive e farci capire che stiamo peccando che stiamo sbagliando e farci capire i nostri difetti profondi quelli che non vogliamo vedere quelli che non vogliamo conoscere se lui potesse non ci farebbe niente di tutto questo ho già detto che le frequenze di Dio sono monotematiche per quanto sta in lui per lui sarebbe soltanto amore e pienezza di felicità ma siccome purtroppo noi stiamo messi come stiamo messi così non può essere quindi per sradicare le tendenze cattive non c'è altra via che quella della correzione dell'esaltazione poi ancora beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza ed è sempre la sapienza e la prudenza perché la sapienza è potremmo dire la retta ragione di tutte le cose quindi la comprensione profonda di esse così come le vede Dio mentre la prudenza è la retta ragione delle cose da farsi è quella che ci consente di condurci nelle scelte che pratico operative che dobbiamo fare perché il suo possesso è preferibile a quello dell'argento il suo provento a quello dell'oro e se è più prezioso delle perle neppure l'oggetto più caro la guaglia vedete quando Gesù parla della parabola per esempio della perla l'uomo che va in cerca di perle preziose le sue vie sono deliziose i suoi sentieri conducono al benessere è un albero di vita per chi ad essa si attiene e chi ad essa si stringe beato ancora figlio mio conserva e consiglia la riflessione non si allontano mai da tuoi occhi consiglio e riflessione in ebraico abbiamo i termini un attimino che è qui figlio mio eccolo qua esatto vedete il termine il termine ebraico è mezimach che viene da zamam bellissimo la discrezione quindi la discrezione è quel termine che designa il discernimento cioè la riflessione che cosa serve a raccapezzarsi a capire e poi consiglio qui in in ebraico è tushiyach che anche questo si è consiglio ma è quel particolare diciamo così consiglio che ha a che fare con la sempre con la sapienza quindi sta dicendo cerca di avere un discernimento soprannaturale su tutte quante le cose saranno vita per te grazia allora camminerai sicuro per la strada tua e il tuo piede non inciamperà salta un pochino non negare un beneficio a chi ne ha bisogno senza potere di farlo non dire al tuo prossimo ripassa domani vedete l'amore del prossimo no non tramare il male contro il tuo prossimo versetto 29 non litigare senza motivo con nessuno non invidiare l'uomo violento non imitare la sua condotta perché il signore ha in abominio il malvagio vedete la maledizione del signore sulla casa del malvagio mentre egli benedice la dimora dei giusti questo era vero ieri era vero oggi ok dei beffardi egli si fa beffe e agli umili concede la grazia questa è un'altra rasticola rassegna del appunto di come si acquista la sapienza andiamo a vedere adesso facciamo un po' un piccolo jump andiamo al capitolo ottavo detto che qui stiamo in e andiamo a vedere un attimo il terzo il terzo brano è la sapienza creatrice no 822 bellissimo il signore mi ha creato all'inizio della sua attività prima di ogni sua opera fin da allora dall'eterità sono stata costituita fin dal principio e dagli inizi della terra quando non esistevano gli abissi io fu generata quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua prima che fossero vissate le basi dei monti prima delle colline sono stata generata quando ancora non aveva fatto la terra e i campi nelle prime zone del mondo quando egli fissava i cieli quando rattracciava un cerchio sull'abisso quando condensare l'opinato quando fissare i soggetti dell'abisso quando stabiliva io ero con lui come architetto la solidizia ogni giorno direttandomi davanti a lui in ogni istante attenzione che la liturgia ora figli ascoltatevi in beati quelli che seguono le mie vie ascoltate l'esortazione beato l'uomo che mi ascolta per custodire chi trova mi trova la vita tutta la forza del Signore sapete che chi pecca contro di me danneggia se stesso e quanti mi odiano amano la morte sapete la liturgia fin dai tempi antichi a chi applica questi passi dei libri dei proverbi non alla sapienza increata che è appunto il verbo eterno del Padre appunto perché il il versetto si qui è tradotto il Signore mi ha mi ha creato però anche qui il termine ebraico vedete come sempre San Girolamo supera è possedere non è creare in ogni caso mi ha posizionato all'inizio della sua attività attenzione no non può far riferimento al verbo eterno del Padre perché il verbo eterno del Padre non si trova all'inizio dell'attività divina perché il verbo eterno del Padre è verbo eterno ok quindi qui è la grande il grande mistero per esempio per chi ci crede gli scritti di Maria Valtorta ma anche la mistica città di Dio di Maria Valtorta parla proprio di questi brani mostrano come questa figura contemplata appunto da Dio e posseduta fin dall'inizio della sua attività è stata Maria Santissima non nel senso che lei sia stata la prima creatura creata ma come tante volte ho spiegato quando Dio ha scelto di fare delle attività fuori di sé cioè fuori di ciò che la Santissima Trinità è in eterno ha pensato a due cose la natura umana del verbo e anche questa ci può stare dentro questa lettura è lo strumento attraverso cui il verbo si sarebbe fatto uomo che è la causa del peccato originale degli angeli ribelli cioè Maria Santissima quindi si provi a leggere per dare un invito alla lettura questa sezione quindi dall'8 22 e seguenti quindi la salienza creatrice avendo come sottofondo ripeto applicazione che viene fatta dalla liturgia stessa e quando la liturgia della chiesa applica qualcosa vuol dire che ci sta dicendo qualcosa di importante a Maria Santissima poi andiamo a vedere qualche cosa del capitolo 12 quindi di alcuni di questi proverbi di di Salomone chi ama la disciplina ama la scienza chi odia la correzione è stolto chi odia la correzione chi odia la correzione è stolto e chi ama la disciplina ama la scienza una vita la disciplina è una cosa molto molto importante cioè una vita disciplinata una vita ordinata la nostra giornata la nostra vita non può andare avanti a casaccio assolutamente non si fa nemmeno un passo né per quanto riguarda l'acquisto della sabienza né per quanto riguarda il progresso spirituale leggo qualcosina adesso un pochino più avanti per esempio ognuno si sa grazie del frutto della sua bocca ma ciascuno sarà ripagato secondo le sue opere le parole di Gesù no? rendere a ciascuno secondo le sue opere poi ancora lo stolto giudica dritta la sua condotta il saggio invece ascolta il consiglio è proprio delle persone intelligenti punto sagge non chi te l'ha detto quello che tu stai facendo dove tu ti stai orizzontando è giusto e fai bene il saggio si confronta ascolta anche chi la pensa diversamente da sé anche un'opinione differente perché? perché sa bene che se sta nella verità il confronto con qualcos'altro rafforzerà la verità che in cui si trova ma se sta nell'inganno nella menzogna è solo attraverso l'ascolto di qualcuno fuori di noi che noi possiamo rendercene conto e rettificare no? poi ancora lo stupido manifesta subito la sua collera mentre l'accorto dissimula l'offesa poi è chi parla senza riflettere che trafigge come una spada qui da qui viene il proverbio no? che lo stupido dice quello che pensa noi prima di parlare dobbiamo dobbiamo collegare il cervello ma la lingua dei saggi risana ah io dico pano al pano al vino al vino quello che penso dico e a chi parla senza riflettere trafigge come una spada si fanno un sacco di danni a parlare senza aver connesso il cervello sentite questo questo bel proverbio di Salomone 12-21 diamo un po' al giusto non può capitare alcun danno mentre gli empi saranno pieni di mare voglio vedere chi è che c'è il giusto è colui che fa la volontà di Dio nella sacra scrittura io quando sento le persone preoccupate guarda che quando vite che vanno a rotoli che vanno a male se tu ci pensi a me mi dispiace dire queste cose qui sei sicuro che tu hai condotto sempre una vita tendendo a fare quello che Dio vuole a non distaccarti dalle sue vie dai suoi sentieri eccetera ovviamente su tutte le cose che vi posso dire ci sono le eccezioni che confermano la regola no ovviamente scusa un esempio un po' forte un pochino tra tutti i vecchi un analismo in scello non so chi di voi conosce questa figura veramente sofferente che per divina volontà era stato permesso al demone di tormentarla in maniera veramente inaudita e questo è un animo innocente quindi c'è l'eccezione no ma questa ha sofferto tanto ma questa non ha fatto niente sì adesso possiamo nel nuovo testamento c'è anche la sofferenza del giusto che appunto è causa di salvezza perché il giusto non è ma anche quella cosa lì cioè in un'ottica soprannaturale al giusto non può capitare alcun danno perché se anche il Signore ti dovesse chiedere una cosa di questo genere non è un danno reale ma è un passaggio momentaneo verso qualche cosa di bello che il Signore ti riserva in questa o forse anche nell'altra vita non importa poi l'uomo accorto c'era il sapere non ostenta mentre il cuore degli stolti proclama la stoltezza il giusto è guida per il suo prossimo ancora ma la via degli empi fa smarrire il figlio saggio ama la disciplina lo spavaldo non ascolta l'improvo quindi questi si possono figlioli e questa la lettura è semplicemente vedete quanto è semplice è semplicemente un invito alla lettura e queste sono poi parole da facilissimo farci la meditazione sono proprio da interiorizzare e da meditare e ancora qualche minuto possiamo vedere anche qualche altra cosa per esempio cambiamo un pochino stile alcuni proverbi dei saggi andiamo al capitolo 24 ci vediamo qualche altra cosa del genere per esempio non invidiare gli uomini malvagi non desiderare di stare con loro perché il loro cuore trama rovine e le loro labbra non esprimono che malanni con la sapienza guardate che bello si costruisce la casa e con la prudenza la si rende salda quindi con la sapienza si costruisce la casa quindi la grande impalcatura della nostra vita ma è con la prudenza si rende salda perché la prudenza che poi ci guida nel fare in ogni istante concretamente le scelte necessarie a mantenerci nell'amicizia con Dio e nella sua volontà no? poi mangia figlio mio il miele perché è buono e dolce sarà il favolo il tuo palato sappi che tale è la sapienza per te se l'acquisti avrai un avvenire e la tua speranza non sarà stroncata bene questo poi lo possiamo esorto anche qui a temi tipici no? non ti rallegrare per la caduta del tuo nemico non gioisca al tuo cuore quando gli soccombe e poi non irritarti per i malvaggi non invidiare gli empi non ci sarà venire per il malvagio il malvagio è l'oceano degli empi si estinguerà noi dobbiamo ricordare sempre queste parole per 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 campare meglio il male non vince gli empi soccombono tutta quanta la loro apparente momentanea gloria è soltanto paglia destinata a bruciare nel fuoco andiamo a vedere infine qualche detto di Agur capitolo trentesimo ecco sono stanco Dio sono stanco Dio vengo meno vedi qui si cambia proprio lo stile perché io sono il più ignorante degli uomini e non ho intelligenza umana non ho imparato la sapienza e ignoro la scienza del santo chi ha salito al cielo e ne è sceso chi ha raccolto il vento nel suo pugno chi ha racchiuso le acque nel suo mantello chi ha fissato tutti i confini della terra come si chiama qual è il nome di suo figlio se lo sai ogni parola di Dio è appurata egli è uno scudo perché ricorre a lui attenzione non aggiungere nulla alle sue parole perché non ti riprenda e tu si è trovato bugianto le parole di Dio non sono bisogno di glosse non si aggiunge non si toglie nulla poi io ti domando due cose non negarmeli prima che io muoia tieni lontano da me falsità e menzogna che sono delle cose orribili e non darmi né povertà né ricchezza ma fammi avere il cibo necessario vedete che bello perché una volta sassi io non ti rinnei che dico chi è il Signore oppure ridotto all'indigenza non rubi e profani il nome del mio Dio vedete che bello c'è gente che si crede pura ma non si è lavata dalla sua lordura bene infine il capitolo 31 dei proverbi è l'elogio della donna saggia e anche qui la sapienza della chiesa chi ci ha visto dietro la donna forte ci ha visto l'abbiatissima vergine Maria chiaramente è proprio l'ultima parte una donna perfetta chi potrà trovarla ben superare le perle il suo valore le conflite al cuore del marito non verrà a mancare il profitto e se gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita si procura l'anno in via eccetera eccetera andiamo a vedere proprio gli ultimi versetti siamo addirittura di arrivo fallace la grazia e bene la bellezza ma la donna che teme Dio è da lodare ma prima ancora molte figlie hanno compiuto cose eccellenti ma tu le hai superate tutte vedete perché questo anche questo capitolo 31 che è appunto l'elogio di questa donna meravigliosa è stato applicato dalla chiesa dalla sua sapienza a Maria Santissima perché molte figlie hanno compiuto cose eccellenti ma tu le hai superate tutte ecco sia sempre Maria Santissima quella che ci guida nell'acquisto della sapienza chi leggerà questo libro mi auguro di farlo sempre bene una bella Ave Maria prima di iniziare la lettura e una invocazione Maria Sede della Sapienza ora pro nobis perché ci aiuterà ad acquisirla spero che la lettura un po' a macchia di Leopardo che abbiamo dato abbia fatto comprendere quanto questo libro veramente sia proprio facilissimo voglio cominciare a leggere un pochino di Bibbia che faccio? io ti consiglio sempre prendi i libri sapienziali in particolare comincia proprio da questo perché il libro dei proverbi è il libro dei principianti quindi comprensibile profondo importante e quindi amici chiunque avrà visto queste povere considerazioni che ci ha il lievuto un po' di voglia buona e santa lettura di questo meraviglioso libro un saluto a tutti e alla prossima e che Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti